Credo che ci sia ovviamente il codice degli appalti che stiamo studiando, credo che andrà in consiglio dei ministri domani che ha l'obiettivo di dare della certezza dei tempi anche una valorizzazione economica, cioè se tu sai che da quando parti a quando finisci non ci sono gli anni, i decenni, ma ci sono dei tempi certi l'aspetto economico finalmente viene messo in sicurezza. Da questo punto di vista non entro nel merito del progetto di quello che sta facendo Euro S.P.A., di come si è ridato il via ai lavori, credo nel 2014 o nel 2015, quello che vi dico è che noi dobbiamo abituarci a un meccanismo come fanno tutti gli altri paesi europei, cioè quando si parte si parte e si arriva in un arco di tempo stretto, anche perché le nostre aziende, i nostri professionisti sono bravi a farlo, bisogna però avere la certezza che la burocrazia non si metta nel mezzo rinviando, 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 perché se un'opera che deve partire un certo giorno parte 15 anni dopo è naturale che partano poi le polemiche sui costi, sulle varianti e su tutto il resto.